Tutto ok? Sì, ho fatto... un brutto sogno. No. Ma ora mi sento meglio. Non dovremmo ripassare la nostra missione? L'ultima cosa che mi va di fare... Non è molto professionale, maggiore. Senti, ho preso un perfetto 200 al mio ultimo memory test. Complimenti! Purtroppo hai dimenticato una cosa molto importante oggi. E quale? È il mio compleanno. Come posso farmi perdonare? Inizio discesa fra tre minuti. Niente che tu possa completare in tre minuti. E dai! Non cominciare ciò che non puoi finire. Atterraggio sul pianeta Kirian tra cinque minuti. Scusa. Ehi, senti. So che sei attratta da me. Perché negare l'obbio? È ovvio? Sì, certo. Le perfettine laureate alle università top adorano i ragazzacci che vagabondano per galassie come me. La mia università top mi ha segnato a stare alla larga dai ragazzacci come te. Sì, ma non troverai niente di meglio sul mercato.